I bambini scampari dalla guerra in Ucraina ritrovano il sorriso nell'una parca all'estero nel piazzale di Bartolomeo a Sulmona. A regalare un giro di giostra ai piccoli rifugiati sono state le consigliere comunali Caterina Di Rienzo e Teresa Nannarone, unitamente alla famiglia Gabrielli e ad altri giostrai che hanno accolto immediatamente l'iniziativa. Un piccolo gesto che scalda però il cuore restituisce ai più piccoli tutta la gioia che il terrore di quelle bombe hanno tolto. Così dovrebbe essere, soprattutto per chi vive ancora la fase dell'infanzia. Dall'autoscontro alla pesca, passando per altri giochi, i bambini hanno trascorso un pomeriggio in allegria, alle giostre, con la speranza che lo scenario di guerra per loro resti solo un brutto ricordo. Una piccola iniziativa, una piccola goccia nell'oceano però su fronte dell'inclusione.